Fumo Fumo In cerca di dinero Io mi sento fortunato Alla fine del giorno Quando sono fortunato È la fine del mondo Io sono un pazzo che legge Un pazzo fuori legge Fuori dal gregge Che scrive scemmo chi legge Oh eh oh Quando il dovere mi chiama Oh eh oh Rispondo e dico son qua Oh eh oh Mi dici ascolta tua mamma Oh eh oh Un, due, tre, sono già là Oh eh oh Quando mi dico va a casa Oh eh oh Rispondo sono già qua Oh eh oh Io ti bibicare a Italia Oh eh oh Sei la mia dolce metà Aspen Mi fischiano le orecchie Suspense Un attimo prima del secco il cash Non comprende monete Crash band di cotto Accoglie le mele Nel mio gruppo tutti belli visi Come un negro bello Diretta bene in city Non spreco parole Non parlo con Siri Felice di fare musica per ragazzini Prima di lasciare un commento Pensa Prima di pisciare Contro vento sterza Prima di buttare lo stipendio Aspetta Torna Baggio Io non me la sento senza Shaker Il tuo telefono forse non prende Nell'interna Finiti a fare freestyle su una zattera in darsena La mia chat di whatsapp sembra quella di instagram Amore e ambizione già dentro al mio starter pack Prigionieri da scabam Fuggiti dal catraz Facevamo i compiti solo per cavarcela Io mi sento fortunato Alla fine del giorno Quando sono fortunato È la fine del giorno Un saluto a tutti i campanali di youtube Oggi il campanale visatore per la prima volta È collocato nel biellese Al santuario di nostra signora d'Europa Qui abbiamo il vecchio santuario Che ha cinque campane Non proprio intonate tra di loro Rispetto a quello del santuario Invece il santuario ha sette campane in fa Perfettamente intonate Che riusciamo anche a vedere Che oggi non riprenderemo Ma ci concentriamo di più su quello vecchio Ecco Ascolteremo le allegrezze Le tribaude E poi qualche distesa Una distesa a due campane Insomma lo vedrete poi il video Sono in compagnia con molti campanari Che adesso vi dico Allora il primo è Campanaro 14 Che ormai già conosco Se vuoi dire qualcosa Buongiorno Ecco Io sono organizzatore dell'evento Campanare Di San Natale Gruppo Campane Vercellese Gruppo Campane Vercellese appunto E dire Queste campane purtroppo Sono state fuse in scala In scala minore Appunto C'è il secondo risultante In scala minore Per il semplice fatto Che c'è una suonatura Della terza La terza Il secondo è Creeple Campana 05 Vuoi dire qualcosa? Salve a tutti Sono venuto anch'io Per questo concetto di campane Da cui mancano tre giorni a Natale E auguro buone feste E poi quanto riguardo Le campane sono storate Diciamo che sono storate Sono in scala minore Bene Con questo video Auguro tutti i campanari tube Una buona domenica A presto Da Campanare Un saluto Dal biellese Dalla provincia di Biella Sarà traguardo Dei miei video Sperando Un domani A presto Da Campanare Un saluto Da Campanare Un saluto 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.